Con le bugie la pace allora può cominciare con la verità. Sono parole di Giuliano Assange che è detenuto in carcere ed è pronto per l'estradizione degli Stati Uniti. Giuliano Assange è un amico dei popoli che è tenuto schiavo e tenuto prigioniero proprio perché ha rivelato ai popoli del mondo le verità sulle guerre in Afghanistan, in Iraq e sugli apparati di potere negli Stati Uniti e non solo negli Stati Uniti. Giuliano Assange è un prigioniero politico e noi tutti e tutti dovremmo fare tutto quanto è il nostro potere per poterlo avere di nuovo tra di noi, poterlo avere libero. Ed è un paradosso assoluto che mentre chi rivela la verità sullo schifo del potere su questo pianeta sta in una galera, quelli che fabbricano le prove false, i Colin Powell che vanno a esibire alle Nazioni Unite provette false, quelli che dicevano che Saddam Hussein aveva i legami con Al-Qaeda, tutte stupidaggine che sono state storte a Guantanamo, territorio cubano che non è sovrano perché è stato sottratto dall'imperialismo statunitense all'inizio del ventesimo secolo ecco tutte prove artefatte sono invece liberi di circolare e vengono considerati dei riferimenti politici e intellettuali per il nostro pianeta e sono i veri detentori del potere anche in questo pianeta, anche in questo paese. Ci sono delle rivelazioni fatte da Wikileaks che spiegano perché oggi il governo italiano sta attuando come sta attuando. Noi abbiamo avuto il ministro degli esteri Luigi Di Maio che a gennaio quando è scoppiata la crisi anziché andare a Bruxelles a parlare con i ministri dell'estero degli altri paesi dell'Unione Europea è stato fermo a Roma perché si giocava la questione del Quirinale e ci hanno riproposto Mattarella per la seconda volta. La pace nel mondo evidentemente è secondaria agli intrighi di potere che ci sono in questo paese. Abbiamo oggi Draghi che dice che Putin lo vuole incontrare. Io onestamente dubito che Putin lo voglia incontrare Draghi però ammettiamo che sia lei ma potremmo solo vanno a dire Draghi, Settorario, a Putin, a Delecchi a queste persone qui perché quello che gli andranno a dire è quello che dovrebbero dirvi è quello che ha detto Quirini il ministro della difesa cioè che il nostro paese già oggi si sta impegnando per inviare tra mille e due mila militari in più al conflitto con l'Ucraina, la Romania, l'Ungheria, i paesi dell'esterova sono mille militari in più, duemila militari in più che non contribuiscono alla pace non contribuiscono alla demitarizzazione del conflitto ma contribuiscono alla guerra e chi l'ha deciso che vadano lì? L'ha deciso la Nato perché è l'unico potere cobrato in questo paese dal punto di vista delle politiche della difesa delle politiche estere sono la Nato e gli Stati Uniti e la Nato e il Trattato del Mondo a parte e quindi lì nel 2006-2010 la ragione chi diceva prima che era di nuovo manco all'altrantismo l'altrantismo in questo paese non significa essere alleati degli Stati Uniti significa essere serbi degli Stati Uniti e questo è quello che fa la politica in questo paese andatevi a leggere un clip di cosa diceva dell'incontro tra l'ambasciatore statunitense Enrico Letta diceva che Enrico Letta, al di là di aver promesso la flessibilizzazione e precarizzazione del mondo del lavoro dicendo che lui era l'unico che poteva portare la precarietà in questo paese a differenza di altri che stavano nel suo stesso partito sulla questione militare, sulla questione delle spese militare, della servitù nei confronti della Nato diceva siamo a disposizione quando l'ambasciatore ha detto guardate ma a noi ci crea problemi il caso di Abbuo Mar che è stato sequestrato illegalmente qui in Italia e portato altrove per essere torturato e il nostro governo è stato zitto e nessuno ha fatto richieste di verità gli ha detto ci metterebbe in difficoltà una richiesta di verità sul caso di Abbuo Mar Letta, da buon democristiano, gli ha detto guarda non parlare con me perché sono d'accordo vai a parlare con il ministro della giustizia che all'epoca era Clemente Mastella mettendosi in ginocchio davanti a desiderata dell'ambasciatore statunitense che sono i veri poteri forti in questo paese e quando l'ambasciatore termina il rapporto che poi viene repubblicato da Wikileaks si dice è interesse degli Stati Uniti d'America il rafforzamento del partito democratico in questo paese perché è il partito che fa i nostri interessi in Italia e che aiuta a marginalizzare le forze populiste e di sinistra che combattono contro la nostra politica ecco questa è la funzione in questo paese del PD e si spiega per quale motivo il nostro governo in questi giorni non sta facendo nulla per la pace non perché abbiano una posizione autonoma ma perché hanno una posizione che vi completa subalternità alla Nato i signori che stanno qua dietro sono i veri poteri forti che stanno in questo paese e che decidono le nostre vite ditemi quando è che il nostro popolo ha deciso che un'organizzazione terrorista come la Nato debba avere le basi militari in questo paese ditemi che ha deciso che le testate nucleari devono stare in questo paese quando noi abbiamo fatto un referendum per non avere l'energia nucleare noi non abbiamo l'energia nucleare ma abbiamo le bombe nucleari quando i sottomarini nucleari passano lungo le nostre coste e solo pochi sindaci hanno avuto il coraggio di dire no al nucleare, no ai sottomarini nucleari dove sta la politica parlamentare ecco questa è la sfida che noi abbiamo davanti non si tratta soltanto dei morti e dei lutti in Ucraina si tratta di costruire un nuovo ruolo del nostro paese un nuovo internazionalismo per l'Italia perché se si sta a cavallo se si sta a rimorchio della Nato e degli Stati Uniti gli scenari già li conosciamo sono morte e distruzioni solo il 2% del PIL che se ne va in armamenti sono soldi, miliardi sottratti all'istruzione, alla scuola, alla sanità quando noi andiamo e chiediamo di riaprire gli ospedali o quando chiediamo di sistemare le strade del circondario ci dicono che non ci sono i soldi guardate intorno alle basi Nato le strade che ci stanno guardate i soldi che girano intorno alle basi Nato per loro i soldi ci sono, per noi i soldi non ci sono mai la guerra e la Nato non fanno soltanto male ai popoli che vanno a bombardare fanno male in primo luogo a noi la battaglia contro la guerra in Ucraina voluta dalla Nato per l'espansione della Nato Est non è semplicemente una guerra contro la Russia o contro il popolo ucraino è una guerra contro di noi perché ci mette un'ulteriore museruola e l'opposizione alla guerra e al militarismo in questo paese è uno dei principi su cui si deve costruire il riscatto della nostra gente è il riscatto del nostro popolo, è l'unico futuro possibile costruire un Mediterraneo di pace in cui cominciamo a guardare agli altri paesi del Mediterraneo sullo spirito di un internazionalismo improntato alla pace e non della competizione e dei bombardamenti della Libia, della Siria, dell'Afghanistan, dell'Iraq non ci hanno detto una parola di verità non una parola di verità sul Vietnam non una parola di verità sull'Iraq non una parola di verità sull'Afghanistan non una parola di verità sull'Iraq di nuovo non una parola di verità sulla Libia mi devono spiegare perché ora dovremmo credergli quando Biden dice che l'attacco di Putin è imminente doveva essere il 16 febbraio oggi siamo al 19 febbraio ancora non si è visto niente raccontano balle su balle e siamo stanchi di farci raccontare queste cose per questo, torno all'inizio le parole di Giuliano Assange sono le parole che dobbiamo seguire noi dobbiamo costruire un'operazione verità in questo paese perché la verità aiuta a mantenere la pace e a mandare via gli sciacalli della guerra come la Nato che sono i nemici dei nostri popoli parla Sara